C'è una nuova passione nella mia vita. È adrenalina. Sfida. Velocità. Ma c'è anche la musica. Scegliere non sarà facile. E lei? Non riesco a togliermela dalla testa. E tu? Che ne pensi? Vai nella community di Violetta e raccontaci cosa succederà, secondo te, nella nuova stagione. Potresti vedere il tuo commento sull'episodio di Violetta. Tutto ricomincia con la nuova stagione di Violetta. Prossimamente sulla Disney Channel.